e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e prima di iniziare il video una piccola parentesi che scusate per le mie unghie schifosissime ma mi devo mettere lo smalto e infatti c'è lo smalto rosso e un po ma che mi ha macchiato le unghie ho notato che smalti rossi neri ma che nel sacco le unghie che c'è qua e dopo prima di mettermi l'altro smalto che me lo devo mettere da un'altra passata di solvente vediamo un po se ce la faccio arrivare lo smalto vecchio insomma ok chiusa parentesi e quindi non fate caso alle mie unghie inguardabili allora è un video dove sono andata con il mio ragazzo domenica pomeriggio l'euro stock e dai cinesi a senigallia all'euro stock preso quattro cosine niente di che dei cinesi invece ho fatto una bella scorta tutta roba di trucco allora cominciamo con l'euro stock che sono poche cose ho preso queste foderine qua e qui c'ha praticamente questo che fate così vedete si leva per i quaderni per mio figlio me ne è avanzata una questa me la tengo per il prossimo quaderno che dovrò comprare per i quaderni insomma quindi ho preso queste foderine qua foderine qua l'ho presa blu poi verde gialla roscia poi ho comprato questi qua come vedete già usati queste quelle foderine mi pare 50 centesimi buono mi ricordo ho comprato questi qui come vedete già io l'ho usato sarebbero questi questi qui 59 centesimi tutta l'euro stock che questi qui c'era solo questi arancioni fosforescenti vedete si leva così va vero tanto lo sapete per metterli sopra al quaderno per per mio figlio per fargli vedere che materiale cioè volendo loro fanno così che appena aprono il quaderno la prima pagina scrivono il quaderno di non so italiano di william turbi classe eccetera 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 la classe tutto però siccome c'è qualche quaderno che uguale perché avevamo preso il blocco dei quaderni a lauscia prima che iniziasse la scuola e quindi alcuni sono doppi su uguali e quindi come l'altra volta si è sbagliato adesso metto queste etichette qua sopra così lui legge sa che materia è insomma ecco quindi ho preso queste che poi queste le userò anche per me quando per esempio prenderò i colori da passione unghie per mettere la tip finta quando mi dite il colore del bastoncino metto il nome del gel colorato che più comodo adesso vedo se mi avanzano dato che questi ritengo anche per mio figlio perché quando cambia coderno che lo finisce riceve riattacco insomma e riscrivo il titolo di che materia poi preso questa cassina qua molto carina che l'ha notata il mio ragazzo che dei pesci perché sono dei pesci le caratteristiche dice sognatori timido dolce e intuitivo e dentro ovviamente è sporca e la devo lavare cioè sia dietro che davanti vedete qua qua è molto carina l'ha notata al mio ragazzo perché non mi era accorto l'ho presa non mi ricordo quanto è costata questa so se 4 euro buono mi ricordo e niente queste qui ah no l'ultimo pezzo questo qui un euro costato questo sapone qua è grandissimo sapone liquido di altaea erboristeria con glicerina vegetale e felce ma l'odore è squisito buonissimo e questi qui è 12 ml di sapone cioè guardate proprio è gigante proprio mi piace veramente tanto è un offertona perché un euro 12 ml di prodotto così grande ma la trova insomma questo qui era le cose comprese all'euro stock dai cinesi invece che stanno lì vicino all'euro stock e che verso la campagna diciamo di senigallia era ormai un bel pezzetto che non ci avevamo più da questi cinesi è uscito tutte cose nuove dei trucco adesso ve le faccio vedere allora ho preso questi qui e bellissimi questi due mascara guardate se belli io perché altro ho presi per il packaging cioè bellissimi proprio questo è tutto nero e c'ha queste piume dorate della susi c'è bellissimo proprio e lo scovolino è questo qua proprio vedete bene nel bianco ecco questo c'è bellissimo piaciuto tanto appena l'ho visto no di esse mio e poi di mascara c'è una decina e però ho visto anche il packaging mi piaceva e quindi l'ho preso cioè stupendo molto eleganti pare molto orientali boh bellissimo questo è uno ho preso quest'altro mascara pure questo come packaging molto molto carino dorato o bronzo pare pur che altro e c'ha questo disegno tipo pizzo diciamo effetto pizzo non so che disegno essere un fiore o qualcosa da strato insomma sia nel tappo che il corpo del mascara sempre della susi e lo scovolino così in questo modo ma stavo sentire l'odore è questo molto molto belli questi due facciano veramente tanto con la mascara come per g molto carini poi ho preso questo foto tinta qua scusate che una casca la roba c'è anche questo come per g molto carino c'erano ce n'erano tanti di questi tutte tonalità il preso il preso il più chiaro possibile avevo provato un altro però era troppo scuro e che si avvicinava a questo vabbè questo qui a fondo detente vabbè long time a lungo tempo wine luxury della wine luxury così e già vedete che c'è fuori prodotto vedete così è molto molto chiaro adesso faccio un piccolo ma così praticamente poi mi piace questi perché hanno proprio qui il colore del fondo tinta qual è non mi ricordo questi quanto sono costati vedete così praticamente nel liquido è molto chiaro quindi va adatto benissimo per la mia pelle un buono l'odore scusate stava massacra il cavalletto e quindi mi piace veramente tanto quindi questo perché io ho preso tempo fa un fondo tinta liquido ma è tanto tanto scuro per la mia pelle e quindi proveremo questo poi come sarà poi ho preso due rossette luci da labbra allora luci da labbra ho preso questo qui della linea dolly vedete come brilla lip gloss adesso ve lo swatcho sempre lo stesso cinese così c'è bellissimo guardate aspetta che lo chiudo un odore buonissimo vedete così e sopra e volendo questo qui trasparentino rosa come vedete un po brillantinato e io penso che se si mette sopra un rossetto rosa comunque c'è stata dio questo è uno poi ho preso questi altri due rossetti allora ho preso questo qui sempre della wine i pegaggi molto carino tutto durato e questo rossetto è fortissimo perché guardate come ha fatto che forma c'è fighissimo e questo è così un bel colore eccolo qua questo colore qui bello rosa ma non so se vedete appannato non so insomma questo uno poi ho preso quest'altro molto carino anche questo come peggy della m co gibo non lo so questo bellissimo rosa proprio forte come potete vedere e questo è così adesso vi faccio vedere molto molto belli comunque i luci da labbra sopra che già l'ho provato e ci saldice molto sopra questi qua vedete da questo effetto delucentezza anche le qua trattate volendo lo potete mettere vedi sopra questo e sopendo vedete questo qui sarebbe luci da labbra sopra un rossetto e da questo effetto qui volendo potete utilizzare anche questo modo luci da labbra bellissimo poi ho comprato questa palettina qua della susi che c'è anche il pennellino che è per le sopracciglia polvere sopracciglio il nero lo userò come ombretto perché comunque non è che sono ora e questo qui lo userò per le sopracciglia e ho precato l'ho preso che c'è questo bianco qua perché quando voi fate praticamente le sopracciglia e ovviamente se vi sporcate un pochino insomma mettete una riga di questo capito su tutta la sopracciglia sia sopra che sotto e quindi da quell'effetto lucentezza diciamo noi e danno questo spicco di luce bellissimo vabbè vi faccio vedere anche il nero così il nero il marroncino a così proprio adatto per le mie sopracciglia il bianco questo è stupendo già guardate cioè bellissimo bello bello tanto non è tanto forte e così fa bellissimo per le sopracciglia insomma qui c'è sta anche il pennellino vabbè incorporato qui da c'è lo scotch vabbè quindi questa io perché altro ho preso apposta per il bianco però comunque userò anche il marrone però il nero lo userò ecco soltanto per come ombretto poi preso questo blush molto bello perché un rosa tipo dio corallo diciamo sempre della susi questo qua leggermente brillantinato così vedete rosa proprio chiarino vedete non è tanto forte non so se metto un po di più fa vedere è chiaro quindi per me va più che bene questo blush bellissimo questo è l'ultimo pezzo che ho preso dai cinesi scarino questa qui anche il packaging bombata scusate i prezzi ma non mi ricordo qui c'è scritto cipria compatta è carinissimo perché vedete a questo disegno qua del mare la palma il sole ed è così il colore vedete questo marancino qua così fa vedere un attimo una cosa vedete quello vedete mai il pollice qui dice cipria no vedete questo quel colore però io come cipria volendo lo posso usare come fondotinta mi fate sapere sotto nei commenti che ancora quei trucchi perché c'è scritto cipria ma a me fare tanto scuro come cipria però vedete qua non so se lo vedete tanto non vedete quasi niente sì non è proprio tanto 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 forte come colore così lo vedete un po di più però mi pare più fondotinta che una cipria non lo so caso mai su questo se mi fate la cortesia sotto nei commenti se lo posso usare anche come fondotinta fatemelo sapere se no userò insomma come cipria perché di cipria c'è no una quindi un'altra mi farebbe comodo comunque molto carina anche il packaging col disegno così mi piace molto quindi mi raccomando sotto i commenti fammi temi sapere se lo posso usare anche come fondotinta oltre che come cipria col fatto che bello bronze vedete qua questo qui a questo non lo so ditemi voi e niente questi qui erano le cosine coprezzo sia da euro stock che dai cinesi io spero che vi sia piaciuto come sempre sotto i commenti fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito e se il video vi è piaciuto spolliciate e niente vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao